superiori problema aule non risolto a poche ore dal nuovo anno scolastico it alert come andato il test di allarme pubblico abusivismo alla fiera di san nicola sequestrati 536 capi volo dal secondo piano muore 19enne di colli al metauro al via la diciannovesima sagra della polenta di Vallefoglia una buona serata cari amiche e amici di rossini tv per questa nuova edizione delle rossini news telegiornale di martedì 12 di settembre che apriamo con una notizia di cronaca arrivati in redazione pochi istanti fa nel pomeriggio di ieri 11 settembre è stato arrestato un giovane italiano residente a fano sotto il mirino della polizia già da tempo al neo maggiorenne già arrestato e condannato per reati legati e stupefacenti gli sarebbe stato trovato un borsello contenente circa 26 grammi di marijuana già suddivisi in 11 involucri pronti per lo spaccio le successive operazioni di perquisizione avvenute dentro la casa del giovane hanno condotto al ritrovamento di numerosi bilancini e alcuni fogli con nominativi e cifre legati alla vendita di sostanze stupefacenti nei primi attimi alla vista dei poliziotti che in quel momento si stavano dirigendo verso di lui per la perquisizione il giovane ha tentato di darsi alla fuga opponendo una decisa resistenza nei confronti degli agenti colpendo uno di questi con un calcio al viso la fuga è svanita poco dopo perché il giovane è stato riacciuffato dagli stessi polizotti in una via vicina il diciottenne questa mattina si è trovato di fronte al giudice del tribunale di pesaro che ha convalidato l'arresto disponendo nei suoi confronti l'obbligo di firma quotidiana alla procura generale parliamo ora di scuole visto l'imminente inizio previsto per domani mattina 13 settembre nella regione marche a poche ore dalla prima campanella però alcuni licei e istituti superiori di pesaro sono ancora alle prese con la disponibilità delle aule è una corsa contro il tempo ma ciò che ormai è certo è che entro domani mattina quando suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico alcune classi si ritroveranno in aule provvisorie provvisorie fino a quando una serie di interventi previsti non verranno ultimati con un costante aumento degli iscritti al liceo scientifico marconi vige la problematica di trovare di anno in anno nuove aule dove poter accogliere gli alunni ne servivano almeno otto due di queste sono state ricavate dalla zona del piano terra altre tre dallo smantellamento del bar vista la scadenza del contratto senza rinnovo per gli ormai ex gestori e altre quattro nella zona esterna dell'edificio grazie all'utilizzo di un prefabbricato le aule ricavate dal bar però non sono pronte sin da subito gli studenti delle tre sezioni infatti potranno varcare la porta della loro nuova classe solamente dai primi di ottobre accontentandosi per ora di seguire le lezioni all'interno dei laboratori facendo la somma complessiva le aule sarebbero una in più che però sarebbe utilizzata dal bramante genga per coprire una necessità di posti istituto tecnico bramante genga che si trova anche di fronte a dei lavori di ristrutturazione interna per quanto riguarda l'impermeabilizzazione dei tetti di sei aule danneggiati dall'alluvione dello scorso maggio un intervento che avrà inizio nelle prossime settimane per una durata di circa sei mesi e un costo che si aggira tra i 180 e 200 mila euro nel frattempo però sono stati condotti dei sopralluoghi che certificano la tenuta e la sicurezza della struttura non solo il marconi e il bramante genga a rappresentare qualche disturbo tra studenti addetti lavori ma anche l'ex morselli e liceo mamiani lo spostamento del liceo classico nella nuova sede di viale 11 febbraio e il collocamento del liceo scienze umane nell'edificio di viale gramsci ha destato diverse polemiche sfociate poi in una raccolta firma di oltre un centinaio di alunni attraverso questa petizione è stato chiesto al dirigente scolastico lisotti di confermare la disposizione dell'anno scolastico precedente che però dal canto suo il preside del liceo mamiani ha risposto motivando la decisione è stata una scelta dettata dal maggior numero di iscritti al liceo di scienze umane e alcune classi più numerose rispetto a quelle del liceo classico e l'edificio scolastico dell'ex morselli non poteva soddisfare queste esigenze altre esigenze erano quelle degli insegnanti che lo scorso anno con la vecchia organizzazione di aule erano circa 40 coloro che dovevano spostarsi da un plesso all'altro con questa nuova opzione l'impasse sarebbe per soli 4 5 professori altro cavillo rappresentato dall'assenza di tre aule necessarie per l'istituto agrario cecchi che però a detta della provincia saranno rese disponibili in tempi brevi alle ore 12 di oggi sarebbe dovuto arrivare un sms a tutti quelli presenti nella regione Marche in quel momento si tratta di un test di allarme pubblico della protezione civile che potrebbe essere reso ufficiale a partire dal 2024 per comunicare alla cittadinanza un'eventuale emergenza questo primo test lo abbiamo registrato e documentato anche con le nostre telecamere Buonasera pubblico di Rossini TV stiamo registrando le teste di IT Alert il nuovo sistema di allarme che viene testato quest'oggi martedì 12 settembre nella nostra regione la regione Marche mancano pochi istanti alle ore 12 in questa fascia di orario dove la regione appunto si appresterà ad effettuare questo test che cosa prevede questo test praticamente suonerà con un suono diverso rispetto a quello solito qui siamo abituati il nostro telefono e andrà ad indicare una emergenza è un appunto un test come abbiamo sottolineato la regione Marche è una delle regioni campione per provare questo tipo di piattaforma diciamo chiamiamolo così questo tipo di messaggistica per prepararsi ad un eventuale allarme e oggi appunto proveremo se di fatto questo qua funziona abbiamo qua davanti a me ci sono tre telefoni vedremo se tutti e tre i telefoni squilleranno per appunto annunciare questa emergenza sono le 12.02 abbiamo visto che uno dei tre telefoni è suonato per primo come possiamo leggere dal testo del messaggio che appunto ci dice questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza abbiamo visto che è suonato quindi prima un telefono rispetto agli altri due ha smesso di suonare senza appunto aver cliccato nulla ora noi clicchiamo ok ed è come se andassimo a disattivare che abbiamo ricevuto il messaggio c'è da dire che la regione marca aveva comunicato in questi giorni che il test si sarebbe effettuato tra le ore 12 e le ore 13 abbiamo visto come un telefono ha subito suonato le 12.02 mentre gli altri due non hanno ancora suonato è comunque un sistema in fase appunto di test e che ricordiamo entrerà in vigore se tutto va bene a partire dal 2024 che ci segnalerà appunto situazioni di gravi emergenze come potete vedere dagli orologi indicati nei dispositivi sono le 12.55 e nei due telefoni che in precedenza non era arrivato la vige d'allarme ancora ad ora non è arrivato nulla solamente il telefono questo qua quello centrale ha ricevuto il messaggio alle 12.02 per quanto riguarda il messaggio di test di IT Alert e allora sono passate da un minuto esattamente le ore 13 di questo test come possiamo vedere anche dai telefoni che abbiamo qua davanti a noi 13.01 ricapitoliamo un po' questo test che anche noi come Rossini TV abbiamo voluto fare questa mattina perché nella fascia tra le ore 12 e le ore 13 sarebbe dovuto arrivare un messaggio da parte del nuovo programma di test degli allarmi della regione Mark che si sta appunto campionando nella nostra regione il nuovo sistema di allarme nazionale il messaggio è arrivato solamente a uno di questi tre telefoni va però detto che i due telefoni quello di sinistra e quello di destra sono telefoni che hanno lo stesso operatore diciamo anche qua, ovvero Iliad perché sentendo anche un po' con le nostre giro di telefonate altri utenti con questo tipo di operatore non hanno ricevuto il messaggio mentre alcune delle nostre persone qua in redazione e alcuni dei nostri cittadini che abbiamo sentito con altri operatori telefonici hanno ricevuto il messaggio in diverse fasce orarie questi due telefoni non hanno ricevuto il messaggio e che cosa fare in questo caso? come appunto detto dalla regione Mark bisognerà andare sul sito www.it-alert.it e compilare il questionario presente all'interno del sito appunto per segnalare che il vostro dispositivo mobile non ha ricevuto questa tipologia di messaggio ricordiamo in conclusione a che cosa serve questo IT Alert arriverà appunto un messaggio con un suono come abbiamo potuto sentire anche abbastanza forte appunto inaspettato diversa dalle classiche notifiche presenti nel vostro telefonino che appunto andrà a segnalare poi quando sarà realtà una situazione di emergenza grave ecco, il T Alert funzionerà per questo arriverà appunto un messaggio che segnalerà una emergenza in atto e appunto per fare in modo che tutti i cittadini possano cercare appunto di cautelarsi e di prendere le adeguate contromisure e passiamo ora alla cronaca con l'abusività emersa alla fiera di San Nicola per quanto riguarda due ambulanti che durante alcuni controlli di routine del comando di polizia locale stavano occupando posteggi a loro non concessi concessioni che invece erano state intestate ad altri commercianti che avevano subaffittato il posteggio la pratica del subaffitto della postazione è vietata e sanzionata con 500 euro di multa mentre il commerciante abusivo che svolgeva l'attività dovrà pagare una sanzione di 5.000 euro oltre all'immediato sequestro della merce sono quindi stati sequestrati 536 capi tessili come tovaglie e circa 50 kg di prodotti alimentari altro episodio di cronaca che si è verificato a Tavernelle di Colli al Metauro dove nella mattina del 10 settembre una giovane studentessa di 19 anni sarebbe precipitata da un terrazzo della palazzina in cui viveva con la famiglia un volo dal secondo piano che non le ha lasciato scampo al momento dei fatti all'interno dell'appartamento erano presenti sia i genitori che il fratello sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente carabinieri e sanitari del 118 ai quali però non è rimasto altro che constatare il decesso della giovane la dinamica della caduta è al vaglio degli inquirenti dopo aver attraccato al porto di Ancona lo scorso 10 gennaio con 37 migranti la nave Ocean Viking si appresta a raggiungere nuovamente il porto del capoluogo marchigiano con 68 migranti a bordo il suo arrivo è previsto per la giornata di giovedì 14 settembre al termine di un tragitto lungo 1560 km per 4 giorni di navigazione l'ultimo sbarco al porto d'Orico risale a neanche un mese fa era infatti il 16 agosto quando la nave Humanity 1 attraccò portando 106 migranti al sindaco Silvetti è arrivata la comunicazione che nessuno dei 68 nuovi migranti resterà ad Ancona e torniamo a parlare di scuole focalizzandoci però in questo caso sulle scuole primarie e gli istituti comprensivi di Pesaro che stanno vedendo dagli ultimi giorni di agosto un'attenta manutenzione degli spazi verdi condotta da Aspes a circa 12 ore dal primo suono della campanella sul nuovo anno scolastico non si ferma l'impegno di Aspes per la manutenzione di giardini, piante e siepi delle 68 scuole complessive tra primo grado e istituti comprensivi della città di Pesaro un'attività che prosegue da fine agosto e che sta vedendo una cura minuziosa da parte degli addetti ai lavori per presentare agli alunni che il 13 settembre varcheranno il cancello una precisa armonia tra vialetti, recinzioni e il verde che li circonda Come Aspes siamo impegnati per conto del comune di Pesaro a far sì che gli alunni di ogni ordine e grado trovino le scuole accoglienti soprattutto i giardini visto che in questa stagione si può anche utilizzare l'esterno dei plessi scolastici ricordo che i plessi scolastici sono 68 con cui noi entriamo nella cura un lavoro personalizzato anche perché non si tratta del semplice taglio dell'erba ma ci sono le siepi si tratta proprio di una vera manutenzione della parte esterna dei giardini che curiamo come dicevo prima per conto del comune di Pesaro le piante sono tantissime poi rispetto alle esigenze che ogni scuola ha vengono fatte manutenzioni di tipo diversa ad esempio se le scuole sono per l'infanzia i bambini hanno necessità di crearsi degli spazi in cui poter giocare magari stanno sotto si creano la propria capanna diventa una cosa di questo genere per cui le insegnanti con cui noi collaboriamo e le indicazioni insomma cerchiamo di mettere in pratica ci danno e noi cerchiamo come dicevo prima di personalizzare giardino per giardino spazio per spazio a seconda delle esigenze che ogni plessio scolastico ha soprattutto si creano delle vere e proprie aule didattiche sono tante le scuole che soprattutto in questo periodo e nella primavera scelgono di uscire all'esterno proprio per il contatto con la natura ma anche per avere soprattutto nelle scuole dell'infanzia nelle scuole dove i bambini sono più piccoli un rapporto diretto con quello che sono gli spazi esterni e quindi con la natura stessa il parco Miralfiore sarà tra i primi parchi della salute sperimentale d'Italia il primo tassello della nuova iniziativa promossa dalle comune per far vivere sempre più il tesoro verde della città è stato posto oggi dalla giunta che ha approvato il protocollo il progetto rientra nella strategia FEVER dove l'amministrazione mira a valutare i benefici ecologici sociali ed economici offerti dagli spazi verdi urbani tutti elementi utili a svolgere funzioni ecologiche come assorbimento di CO2 e regolazione del ciclo dell'acqua ma anche di benessere psicofisico e di diminuzione dello stress sabato 16 settembre alle ore 17.30 presso la caffetteria del Borgo l'associazione Hauser Volontariato Pantano festeggia i due anni dalla sua costituzione facendo un bilancio delle tante iniziative realizzate finora e presentando quelle in programma da Ginnastic Hauser al Cinema Secondo Hauser passando per Puliamo Pantano e il Mercatino di Natale saranno diverse le attività in programma future e da giovedì 14 di settembre a domenica 17 torna a Vallefoglia la diciannovesima edizione della Sagra della Polenta sono quattro giorni impegnativi per noi iniziamo da giovedì dalle 19 si parte apriamo gli stand e iniziamo la serata con una commedia dialettale bicciolante depressivo e poi dopo venerdì con la musica balli latini poi sabato e domenica due complessi Fabrizio L'Accademia e poi la terza idea di domenica sera gli stand sono sempre i soliti diamo Polenta a volontà poi Grigliate Cresce di Urbino siamo in Piazza della Repubblica a Montecchio proprio centrale la piazza centrale di Montecchio e dopo ci saranno i mercatini anche i mercatini dal sabato pomeriggio i mercatini al sabato mattina ci saranno le giostre per i bambini nel parco Volponi grazie alla Proloco che ha un programma di eventi abbastanza importanti questa della Polenta già dall'idea che stiamo arrivando in autunno e l'inverno e poi insomma ci sono anche tradizioni tre, quattro giorni giovedì, venerdì, sabato e domenica mi pare sia importante dal punto di vista anche della socialità perché non è che si mangia si beve da Dio in questo territorio a Vallefoglia ma anche dal punto di vista della integrazione della crescita di una comunità perché è una comunità coesa è una comunità che sta insieme che ha molte opportunità quest'anno sono state tantissime le opportunità ne cito solo due oltre che questa che è quella di maggior impatto ma la Proloca ne ha fatte tante e noi li ringraziamo perché è un'associazione di volontari che fanno il loro lavoro a tempo perso danno una mano a far crescere la comunità e la società e passiamo ora allo sport con la presentazione del trentesimo consorziato di Pesaro Basket avvenuta oggi nella sala rossa del comune di Pesaro la new entry porta il nome di utensile centro realtà pesarese dal 1980 il trentesimo consorziato e ne aggiungeremo altri quattro e presto li presenteremo tutti e arriveremo a 34 consorziati che è un bel numero che insomma ci inorgoglisce e ci fa pensare positivamente anche in prospettiva per il futuro è un'azienda che ha sede a Montelabate è stata fondata nell'80 c'è già la nuova generazione che la sta seguendo fa utensili per il legno e per alcuni aspetti di questi utensili è anche leader a livello nazionale noi siamo sicuramente affezionati e legati al nostro territorio e ci sembrava importante unirci a una realtà come la VL che è sicuramente la prima realtà sportiva del nostro territorio produciamo utensili per la lavorazione del legno utilizzati prevalentemente nelle industrie del mobile e poi sicuramente i nostri utensili sono applicati anche in altri settori ad oggi perché ci siamo comunque industrializzati sempre di più e quindi si applicano ai settori come il PVC l'alluminio e diciamo tutti i materiali di ultimissima generazione il nostro prodotto non è un prodotto B2C è un prodotto B2B quindi diretto alle altre aziende però sicuramente ci può mettere in luce a livello nazionale e magari anche oltre anche se noi siamo già ben presenti all'estero perché sportiamo in oltre 40 nazioni nel mondo spero che ancora ci sia tanta gente che abbia voglia e piacere di abbonarsi siamo a un buon numero però è ancora poco e quindi speriamo speriamo che insomma la gente capisca che può essere un campionato non può sarà un campionato molto avvincente molto bello molto faticoso ma abbiamo bisogno di quel calore che ci fa ci fa dare sempre molto di più e con le notizie di sport si conclude qui questa nuova edizione delle Rossini News prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti di serata infatti questa sera alle ore 21.20 trasmetteremo la nona edizione di Tavuglia in moto speciale realizzato proprio a Tavuglia il 9 settembre 2023 e poi vi ricordo anche l'appuntamento per domani mattina alle ore 7.20 in diretta con la rassegna stampa dei quotidiani della provincia di Peserurbino ovvero con Buongiorno Rossini diretta che potrete seguire come di consueto sul canale 80 ma anche sulla pagina Facebook e adesso è veramente tutto io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata